Siamo molto contenti di presentarvi oggi un nuovo sistema di cui si dota il nostro comune. Questo sistema si chiama Sindaci in Contatto 2.0 e consente all'amministrazione di raggiungere tutti i cittadini in tempo reale attraverso una chiamata vocale. La sicurezza dei cittadini è priorità assoluta per l'amministrazione comunale di Formia. Per questo in caso di necessità, i cittadini riceveranno contemporaneamente una chiamata registrata da parte del Sindaco, garantendo tempestività e capillarità dell'informativa. I numeri fissi presenti sugli elenchi telefonici saranno contattati senza necessità di iscrizione, mentre per i numeri non presenti in elenco e per le utenze mobili, basta chiamare il numero verde 800 97 32 67. Siamo molto contenti di questa scelta e siamo molto contenti che da oggi il sistema sia attivo. Siamo molto contenti di questa scelta e di questa scelta e di questa scelta e di questa scelta e di questa scelta. Grazie.